Bene amici di Trefino.net, Shark telefono 3D, sta girando questo video, come vedete c'è il fuoco continuo, un attimo per l'adattamento, adesso faccio un pan veloce, nonostante siano le 9 di mattina qui a Milano il tempo è veramente inclemente, questa è una prova di controsore, diciamo che il controsore è una cosa in questi giorni abbastanza improbabile, stiamo girando in full HD e a questa risoluzione lo zoom non è disponibile.